tu lo conosci l'articolo 1 della costituzione buongiorno oggi parliamo della cina nazionalista di taiwan la struttura della costituzione è di 175 articoli è un paese che è concentrato in un'isola e quindi molto molto vicina a questo colosso che è la repubblica popolare cinese e quindi come è accaduto per il passato e come continua a accadere che ne so con l'olanda e la germania la spagna con il portogallo il belgio con la francia e così via anche qui abbiamo un'isoletta medio grande che comunque subisce questa presenza enorme e anche minacciosa perché la repubblica popolare cinese a certi periodi e credo anche ad orologeria si alza e dice decidiamo di invadere taiwan e quindi sono armati fino ai denti peggio di sparta questa premessa per dare poi chiarezza di lettura all'articolo 1 che costituisce come per le precedenti costituzioni l'argomento più importante di un popolo la vetrina leggo la repubblica della cina fondata sui tre principi del popolo è una repubblica democratica del popolo governata dal popolo e per il popolo capite la differenza qual è la repubblica popolare cinese una struttura verticistica che non ammette critiche dirigista efficiente ma comunque il popolo non conta nulla e qui invece c'è una specie di opposizione teorica il popolo conta è quello che decide i destini della nostra repubblica da notare che l'articolo parla della repubblica della cina punto attenzione e fa riferimento ai tre principi del popolo che furono teorizzati da un filosofo medico agitatore politico grandissimo organizzatore anche che fu Sun Yat-sen i tre principi del popolo erano nazionalismo democrazia benessere tanto per farla molto stretta comunque c'è da leggere suggerisco di leggere questo libricino di Sun Yat-sen del 1925 ecco la forza di Taiwan e la sua potenza tecnologica ha puntato tutto sul futuro ma direi anche sull'iper futuro tenendo però un straordinario equilibrio tra ultramodernità un po' come il Giappone l'ultramodernità e le tradizioni millenarie confucianesimo eccetera eccetera che dire è un popolo che dè sta curiosità perché comunque si sentono cinesi cinesi del continente la capitale dei ure di diritto è nanchino ma sta sul territorio per cui loro considerano Taipei una capitale provvisoria provvisoria decine di anni la situazione non si sblocca e comunque questa situazione si vive anche in ambiti internazionali dove la repubblica di Taiwan non viene riconosciuta per esempio dalle quattro potenze vincitrice dell'ultimo conflitto mentre viene riconosciuta per esempio dal Vaticano per esempio è un riconoscimento aperto ci sono proprio ambasciate reciproche e quant'altro perché perché questo significa indispettire una potenza di prima grandezza come la Cina quindi non è neanche un fatto di diritto ma è un fatto di opportunità politica mi auguro solo che questa conclusione che questo destino di questo piccolo isola operosa intelligente proiettata nel futuro non debba subire un eventuale tracollo militare sempre per rimanere in ambito asiatico parleremo la prossima volta della Corea del Nord che è uno stato che non scherza nemmeno quello